Non tanto la memoria del passato quanto del futuro, quindi testimoniare battaglia quartiere per quartiere, alla mafia, alla camorra, alla malavita, alla disonestà e all'ingiustizia da ogni suo punto di vista, se oggi fosse in vita avrebbe tanto da fare, perché in Italia avrebbe ancora tanto da fare. Infatti appunto, parlando di legalità e antimafia, secondo lei la magistratura fa abbastanza? C'è una lotta costante? La magistratura fa, la politica non abbastanza, quando ripropone vecchie facce, vecchi stemmi, quando c'è gente che entra e esce dalla galera, non mi piace, quando viene fuori mafia capitale, quando si certifica che l'immigrazione rende più della droga, anche nella Sicilia di Giovanni Falcone, quindi tanti stanno facendo tanto, qualcuno ha la coscienza sporca ancora come ieri. Sì, devo stare tranquillo, un minuto, senza... Un minuto, dai, fermi. Vorrebbe essere un po' a tracca. Esatto, un minuto. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti